Buongiorno amici di Vivere in Prati, oggi siamo su Via Duillo, una storica salsa metteria, in questi giorni ho 50 anni di attività qui in Prati, è un piccolo alimentare, siamo da squarcia e andiamo a prendere un compagnino, una ciabattina io prego sempre, con mozzarella e melanzane che io trovo squisita, fatta espressamente da loro. Eccoci, siamo in fila, vedete il banco di alimentari, saloni, pizza, un po' che buona anche la pizza bianca, con la mortadella e la consiglio, aspettiamo per fare il nostro panino. Eccoci qui con il nostro panino, la nostra ciabattina, con melanzane e una mozzarella, un nodino, prezzo come vedete molto conveniente e adesso ce la mangiamo. Eccoci qui con la nostra bella ciabattina, siamo qui sulla piazza di Queriti e ancora auguri per i 50 anni a squarcia e buon appello. Buonissimo! Quercia, via Duiglio, complimenti!